Hola io sono Marcus Krohn e signore e signori bentornati fallout volevamo andare a fare delle missioncine ma sono tornato a casa perchè mi sono ricordato a Sanctuary perchè mi sono ricordato che io off camera feci e cagai un generatore di elettricità collegato a una pompa un generatore d'acqua eccolo qua si chiama come ti chiami depuratore d'acqua che va piazzato soltanto sulle fonti d'acqua questo qui è il generatore elettrico produce 3 e quello consuma 3 se non sbaglio e questo coso mi rifornisce nell'inventario quindi dove vado a fare trasferisci nell'officina eccola qua di acqua depurata adesso io l'ho presa quindi dovrebbe essere qui acqua purificata che ho 14 mi da 14 lattine non lo so dal prezzo di 20 cioè l'una costa 20 quindi buono potrei trovare un PNG a cui venderle e visto che ci sto volevo non fare l'officina sono un babbeoide ma volevo andare a modificare le armi che ho trovato perchè io ho trovato una mitragliatrice che mi sono scordato completamente e volevo vedere se potevo modificarla in qualche maniera purtroppo qui evidentemente NOPE indietro canna standard canna leggera ci aumenta il no ci diminuisce il peso aumenta il valore va bene calcio ridotto che cosa fa il calcio ridotto sembra non fare un cacchio di niente caricatore largo o caricatore a tamburo medio allora aumenta il caricatore di quanto di niente cioè è sempre 66 però così è più figo 12 adesivo 2 6 petrolio perchè petrolio e diminuisce il peso quindi chi se ne frega non sprechiamo mirino abbiamo un mirino reflex sul mitragliatore mirino luminoso mirino reflex io lo voglio assolutamente aggiungere olè e un rompifiamma compensatore cadenza di fuoco portata però così mi si abbassa quindi signori e signori abbiamo un nostro bellissimo mitragliatore andiamo a vedere un pochino no 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 fermo 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 non voglio sparare a mamma marfi a mamma a mamma ta tattico mitragliatrice eccola qua che spettacolo bellissimo peccato che io abbia soltanto 50 colpi porca e qui ci abbiamo la vantaggione di tacos mamma devi staccarmi mamma marfi vuoi le mentats? dai eh dai e drogamo se ecco a te a Cosworth mi piace un cazzo faccio drogata drogata su colui che ti aspetti profondo e buio circondato da persone animate da intenzioni crudeli ma c'è anche un eco qualcosa nel passato che può aiutarti quando incontri l'uomo corpulento e la donna incollerita di loro ricorda la cava lì giù sulle rocce così lasceranno passare te e chi ti sta vicino what? wow è stato più faticoso del solito ma io te sparo faccia vecchio eh sì vabbè devi stare molto calmo devi stare davvero molto 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 calmo allora vediamo un po' se posso farne altre di cose fighissime fantasticiste ad esempio risorse qui c'è l'acqua il cibo e varie cibo abbiamo soltanto gli ortagioni che cacchio è sta roba nope le varie che cosa sono produzione extra dal saccheggio stazione dei materiali recuperati ah ah davvero ma non è questa scusa no è un'altra cosa allora io la metto qui la metto qui e voilà ok dice che ci dà più cose se le freghiamo e poi c'è una vasca da bagno il bramino tende a stare vicino alla sua mangiatoia mangiatoia per ma io non ho bramini risorse varie campana ok una sirena e una destinazione viaggio rapido che già ce l'ho ok quindi queste non ci interessano risorse acqua abbiamo la pompona la super pompa che però richiede 5 di energia e le viti che ho sprecato come un crudinazzo e poi c'è la pompazza questa qua ci dà 10 questa ci dà 40 però richiede un botto di energia che non credo adesso negozi commerciante armatura oh ma che figata e perché non posso farlo serve leader nato come skills ok vediamo un po' forse è qua allora leader nato io qui mi impappino sempre come la morte questo che cos'è donatore di vita guadagni di stati neto e più 20 salute massima leader nato leader resistente alle droghe ok leader nato eccolo qua richiede carisma 6 però posso ah no posso farlo puoi costruire negozi e postazioni di lavoro negli insediamenti però perché vuoi livello 14 ancora non posso farlo ok ne ho sprecato uno e com'era che si faceva per aprire no chiudi la torcia marcus cron non mi ricordo come si apre devi stare molto calma mamma marfi ok torniamo a noi creazione oggetti banco eh adesso proprio tutti ecco campana questo serve tutto leader locale qui serve qui questo posso farlo no serve sempre leader locale 14esimo livello mi serve peccato perché mi piacerebbe fare alzare sulla cittadina creazione degli oggetti già l'abbiamo vista risorse già l'abbiamo vista difesa per ora energia abbiamo i generatori questo produce 3 oh posso fare questo che produce 5 aspetta questo è quello che ho io aspetta un momento eh aspetta un momento quella lì quella pompa là consuma 3 quindi io ho un disavanzo fammi vedere fammi vedere fammi vedere corre 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 e questo generatore a murino a vento ah carino 2 ingranaggio rame acciaio inox 1810 questa vuole la scienza che generatore grande allora fammi vedere un po' questo qui è il generatore medio che produce 5 e questo qui richiede 2 quindi io posso metterne un altro facciamolo regà facciamolo prendiamo più acqua possibile così poi la vendiamo non so che ci ci si faccia però va bene allora risorse acqua pompadur questa qui consuma 5 ok questa consuma 2 l'attacco qua ok basta esci e poi devo spazio l'attacco qui ok funzionano tutte e due no 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 esci 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 vediamo sembra tutto a posto ok signori altra acqua per noi questo ce la fa chissà se succede quando ce ne metti troppe sono curioso comunque ho scoperto adesso che ci sta anche il generatore più piccino quindi questo fa 5 e quelli sono 2 ci potremmo mettere una cosa che consuma 1 però non saprei che la mia cosa ficata 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 visto che ormai stiamo a casetta diciamo che nella prossima puntata andiamo a fare la missione ciao chicca tu sei sempre stronza sei sempre stronza e a questo point of situation vediamo un po' se questo posso no no non posso farlo non parlare io mi avvicino tu non devi parlare non avevo potuto dire una crocca si va sempre a cacciarsi nei guai se non te cercasse di starne alla laurea oh 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 sei simpaticissimo a nonna Murphy te n'affanculo no allora volevo riaprire l'officina di cui però ho dimenticato il tasto quindi è inutile noi abbiamo felicità in aumento cibo acqua un botto di acqua energia difesa 10 cibo 6 a questo punto io andrei a vedere strutture così però mi ripiazza ma così mi fa le case posso fare le case davvero ficata posso metterla qua tipo no pronto però qui si interessante ho perso la voce interessante davvero mi piace ok quindi qui potrei costruire casa mia ad esempio io posso distruggere le case con un click ma non posso tagliare l'erba sta cosa mi dà un fastidio perché non posso togliare l'erba che è bruttissima allora legno metallo porte staccionate strutture varie asta chiodata con il teschio oppure asta chiodata e basta perché dovrei costruire le aste chiodate non lo so questo è un prefabbricato bruttissimo quanto la morte vediamo se riuscissi a girarlo ok e potrei metterlo qua però l'acciaio mi serve andiamo a vedere un attimo il legno l'agno 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 ok sempre acciaio e legno però 10 a sto punto non ho capito ok facciamo questa che è più bellina quindi io la metterei al centro così ok uh te la mette che figata no però lì aspetta qui deve essere chiusa effettivamente quindi posso fare tab annulla prendere questa con e ok per ora la mettiamo qui allora vediamo un po muri quanto so brutti raga giustamente eh poi ok ah posso chiuderla ok posso chiuderli veramente le sto a casa oh figata cambio di programma cambio di programma mamma mia i tasti sono un po stronzi sinceramente ok 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 su e e e oh 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 facciamo un po brutta che sporge però oh adesso si esci adesso ma è aperta è aperta ma siete pazziti ok è brutta quanto la merda però è può può essere una casa può essere vista come una casa allora andiamo a farci una porta le porte dove sono le porte 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 eccole qua chiuditi non posso aprire è vietato dalla legge aprire le porte ragazzi e voilà perfetto ora la domanda è se io volessi un secondo piano per tipo spizzare il panorama ho una scala ma la smetti di mettermene a cacchio da cane ok dai fammela perché non me la fai posizionare ti da fastidio proprio eh ma c'è un'altra ma quante cazzo le porte ecco qua ok facciamo così ok va bene ok qui poi facciamo tetto che brutto sto tetto ragazzi fa schifo proprio se lo metto qua ci sale sopra no non ci sale sopra automaticamente quindi fa schifo sto toppando io c'ho paura che clicco sulla casa e tipo esplode esplode tutto ok vediamo se me lo fa fare ancora eh si bello da ok ti è la vista dall'alto del giovane marcus cron si ok strutture legno scale fuori dall'area identificabile uscita automatica che vuol dire ah più di qua sopra non posso andare ragazzi che bel panorama vabbè io ho proprio cannato però mi son divertito quindi questa era una speciale puntata di costruzione stronzate ed è divertente beh noi ci vediamo alla prossima con le missioni bella regà allora Grazie a tutti.